Ciao a tutti con Red Gaming, bentornati sul mio canale, oggi vi porterò FC24, andiamo! Bene, direi subito di iniziare, innanzitutto volevo mettere al posto di Giroud Lautaro Martinez visto che l'ultima volta siamo partiti con Giroud e Lukaku, questa volta partiremo con Lautaro e Lukaku, andiamo! Per il resto non voglio cambiare niente anche perché abbiamo paleggiato l'ultima volta però credo che la squadra abbia girato molto meglio la squadra sulla carta è nettamente forte la mia però alla fine le partite si vede sul campo quindi andiamoci dentro partiamo partiamo come è andato via attenzione a Wernandez il campione del mondo difesa composta da 1-2 l'ultima volta a Palo Lukaku Bernardo Silva insieme a Bruno Fernandes Cimperiano in avanti spazio al talento ai gol di Mbappé questi qua stanno giocando in due ma giù l'ho segnato bene, non siamo partiti molto bene devo dire però adesso ce li faremo e cambieremo la partita come non detto come non detto bravo Ciukueze ottimo tiro di Enders però era molto facile per il portiere attenzione 1-2 Kostic Laltaro fallo in mezzo Lukaku driviti avvo Calabria come fallo? ma non mi sembrava fallo Ribery bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio fallazzo come non è fallo? scandaloso giusto questo devo tirare non devo fare gol facili Paschirotto incredibile l'intervento alla Maldini Paschirotto ancora lui per l'ultima partita Paschirotto è stato devastante proviamo a ripartire con Cucuhezze sulla fascia e mezzo grande parata qui sull'attentativa di testa pallone che è uscito e ovviamente nuovo corner che gol che scandaloso schiavo Cagno che è il momento di vero per pazienza rivedito nuovo segnalo che avremmo riaperto subito a partita con Cucuhezze calma con calma che arriva il gol Averno Mendes ho un baschi 8 Tisori in traversario bravo in desu prevedibile prevedibile recuperare il pallone tutti quelli eh vogliamo essere molto felucidi ma brutta va bene va bene c'è il secondo tempo puissà rifarci Stalk 4 City FC Peter Digno 0-2 per adesso ovviamente sempre sponsorizzato da Amazon Prime voglio fare i cambi voglio aspettare almeno se si è un tiso per fare i cambi che vorrà continuare con lo stesso attreggiamento ah brutta pericoloso qui Bruno Fernandes grande occasione ci ha messo una pezza qui il portiere c'ho sempre una sentenza ah no posso notare anche questa va bene stiamo sfruttando l'occasione che ci cazza se ripartirà se ripartirà con un fallo laterale Lautaro Martinez può riaprirla qui ma l'ha intercettata a nuovo possesso ecco Lukaku è ancora lui incredibile dai che la portiamo a casa Lukaku sembra la sentenza cerchiamo di non prendere gol bravo Kostic l'occasione 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 incredibile doppietta abbiamo pareggiato adesso portiamo a casa la partita pausa io direi di fare i cambi direi di mettere Olivier Giroud a posto di Lautaro non ha fatto tanto però insomma il suo l'ha fatto mettiamo Olivier Giroud speriamo che si gira e direi anche di togliere il frattesi che è munito di mettere Locatelli adesso andiamo a vincerla grazie a te questività di questo intervento attenzione tripletta tripletta per lui l'avete visto anche voi tripletta di Lukaku e siamo passati in vantaggio incredibile la partita è cambiata in meno di 10 minuti in gioco ecco l'impegno questa schiotto incredibile recuperano in possesso interrompendo un'azione che stava diventando pericolosa Kostic palla che supererebbe sarà diventata in campo con la scitolata incredibile pazzesca l'arbitro dà la norma del vantaggio si avvicina all'area putta ho capito perché si è tornato indietro avorna del incredibile riuso mentre la partita non è chiusa dobbiamo stare concentrati cercare non solo il gol bravo Hernandez questo è un gol fatto un gol salvato di Hernandez con il gioco facciamo i cambi tagliamolo lukaku che posso asplay da standing ovation mettiamo alland laser esterno destro posti cioccolese per dare più velocità e ho caffora a sinistra siamo giocatori veloci e al stesso tempo agili ovviamente di te lo pensa alland eccolo che entra il robot oh cosa fa che l'aria recupera una palla grazie all'ottima organizzazione di ma stonda ai girù ci sono metri per andare però lo metterlo in mezzo la mette giù ma non è facile e volare c'è stati dei polli non a prendere queste gol le star attenti adesso continuo in fase difensiva rischioso intendo il portiere bravo l'anzari bravo tu mori attenzione l'abbiamo portata a casa l'abbiamo portata a casa grazie a lukaku giru contro una squadra avversaria che ha dato filo da torcere parlare di tratti del match store forse i tfc pedardino 4 a 3 e ora godiamoci le azioni sedienti qua il gol di riveri altri gol di riveri gol di che parata parata di scioco altro gol che non mi ricordo di chi ha fatto lucio lucio ecco qua la riapre lukaku sul rigore qua pareggiamo con lukaku qua andiamo in vantaggio e qua la chiude giru col suo sinistro un missile e tra l'altro avevo fatto anche i time shot verde direi che ci siamo ciao buonanotte alla fine del video spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciate un mi piace commentate iscriviti al canale soprattutto condividete il video e ci vediamo alla prossima avventura ciao guerini del gaming ciao